I carabinieri di Salerno hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di sette persone, uno in carcere, cinque agli arresti domiciliari ed uno sottoposto all'obbligo di dimora. Gli arrestati sono tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale. Oggi si è conclusa questa importante operazione che è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno e coordinata dalla DDA di Potenza. Il luogo su cui si sono verificati i riati è il Vallo Didiano, una zona incontaminata, in particolare Atena Lucana che è una cittadina di 2400 abitanti, un'organizzazione senza scrupoli che tombava dei rifiuti che sono stati definiti ecotossici, quindi particolarmente dannosi per l'ecosistema, soltanto ed esclusivamente per ragioni di profitto, sia per ammortizzare i costi che le imprese avrebbero dovuto poi sostenere per smaltirli in via lecita. Il capo e il promotore di questa organizzazione è Tale Cardiello Luigi, che è noto come Remida, è stato coinvolto in due grandi indagini, una con il suo nome, Remida e un'altra Cassiopea, alla fine degli anni 90 del 2000, nel Casertano, e che si è stabilito da lungo tempo nel Vallo Didiano, dove ha concentrato i suoi interessi. E non solo, c'è un collegamento con i Casalesi, attraverso Diana Raffaele, che è un uomo riferibile al grande Casalesi, con cui aveva stretto un ottimo legame proprio per svolgere in una zona, come dicevo, incontaminata, i suoi affari illeciti.